eccoci siamo tornati questa volta un video in condiviso fatto circa un mesetto fa no di più un mesetto fa due mesetti fa e una bella moab condiviso deathmatch a squadre nuove novità per voi allora pagina facebook cambiato il nome nome non più bj code come avevo detto precedentemente nel video illustrato ma barnet02 dove ci saranno tutto quello che volete e tutto ciò che ci scriverete su youtube e potete anche scrivere sulla pagina tranquillamente allora in questa moab abbiamo acr68 sempre sempre c'è il 68 autunno con i perk sono sciacallo pro usavo sciacallo pro impossibile pro attiratore scelto pro poi specialista gioco di prestigio pro predatore pro oltre il limite pro ancora noi barnet sono barnet e anche oggi c'è gk e perché sta lavorando però il prossimo video è sicuro ci sta sicuro sicuro allora sicuro caricheremo anche una doppia moab doppia moab sicura sniper moab meno sicuro perché non siamo alle aspettative di queste potenze però noi possiamo arrivarci quindi una sniper moab l'avrete ma prossimamente quando il numero di iscritti saliranno quindi vi invito a iscrivervi e mettere un mi piace su questa moab moab fantastica ragazzi voi mi dovete dire chi di voi scrivetelo nei commenti ha messo una moab acr68 seatown particolarmente seatown perché è impossibile mettere una moab a seatown deathmatch a squadre poi pure in condiviso perché qui vedete gk e661 quindi gk e661 vuol dire che sono in condiviso non ho camperato sono stato molto bravo infatti se vedete c'erano degli avversari non molto forti ma neanche molto scemi perché seatown si 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 gioca in una parte molto molto piccola piccola si gioca nella casetta e al centro dove sto io adesso in questa cupola quindi se uno va il fucile a pompa ti viene vicino e sei poco pronto la connessione fa leggermente schifo sei morto e se ne è andata la serie di forse 20 tra poco prenderò la moab quindi io la moab la prendo circa 5000 adesso scherzetto all'amico sta arrivando quello che fucile a pompa io faccio salire a lui qui ci si muore vedete sei morto sei non mi sono morto poi avevamo l'idea io e jk66 di ogni partita di intitolarla i milanesi e ogni partita vi diremo una battuta abruzzese e una parola abruzzese capito? capito? guarda quando dice allora saliamo allora parola abruzzese quest'oggi sono le chicocce le chicocce sarebbero le zucchine le zucchine capito? le zucchine se poi voi siete di un altro posto d'italia o anche di un altro stato e capite l'italiano scrivetemi una parola tipica del vostro dialetto e che cosa vuol dire nella vostra lingua ecco qui lo scemo guarda lo scemo di turno che pazzo mi accorgi neanche e qui sono veramente vicino alla moab quasi l'ho presa forse in pratica la mia partita finisce con 33 uccisioni e una morte soltanto quella che ho fatto con le mie p7 apposta lì vedete GKE66 sotto di me proprio perché stavo in condiviso se voi non l'abbiate capito perché alcuni di voi non credono che certe persone mettono un mob in condiviso speriamo che questo video lo vedrete in molti ecco qui è arrivata ecco questo qua che urla disperato come se fosse nemica ma invece è mia e non se ne sono ancora accorti ah hai capito che è alleato meno male ecco è scoppiata come sempre come alcuni di voi sanno quando si mette la moab si salta e si accortella se lo fanno tutti prossimo video perché è quasi finita la partita perché questo non era un deathmatch a squadra guerra terrestre ma beh era proprio deathmatch a squadre deathmatch a squadre degli elenchi standard e ha fatto 33 uccisioni una morte è stata una bella partita veramente ci siamo divertiti oggi K66 vediamo è finita la partita iscrivetevi alla pagina Barne02 il canale è sempre Merocalli66 anche su youtube iscrivetevi lasciate un mi piace e commenti dei vostri decideri se volete qualcosa qui la partita è finita vedete qua faccio l'ultima cioè non la faccio io l'ho fatta un altro però l'ho fatta intanto beh saluti guardate quanto è brutto guarda dove cazzo sta va bene ciao saluti bella 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 bella